Scrivere Scrivere dà felicità per provare emozioni in ogni momento della giornata per poter vivere altre mille vite oltre la tua Scrivere è magia Le energie vanno a incanalarsi nella tua mente e attraverso le dita che tengono una penna riescono a generare nuove realtà La concatenazione delle parole rende tangibile la nuova ambientazione creata e si respira un'aria fresca lucente o cupe misteriosa allegra e spenserata o drammatica e profonda Si viaggia alla scoperta di nuove città moderne o antiche perdendosi tra i vicoli odorando i profumi tipici dei borghi Si cammina nei boschi, praterie, montagne navigando per mari oppure meravigliandosi all'aprirsi dell'orizzonte su un mondo fantasy Scrivere è terapeutico Attraverso la scrittura si avvia anche un processo di guarigione liberando le nostre paure i nostri dubbi i nostri dolori si libera per prima l'anima stessa